Ci sarà un camper che sarà il vero motore appunto del progetto che andrà ad incontrare quelli che sono i luoghi frequentati maggiormente dai giovani. Il camper avrà una valenza prettamente di natura ludica, quindi si apposterà al di fuori dei luoghi dove i giovani si trovano e all'interno del camper ci saranno alcune giochi, attività relative a quelli che sono i temi che secondo noi sono importanti per i giovani. Quindi il lavoro, la famiglia, la casa e le relazioni. Il camper sarà guidato da giovani, è un progetto appunto di giovani per i giovani. Il tragetto del camper e tutti i movimenti del camper li potete vedere sul sito www.byyanks.it Fateci sapere dove possiamo trovarvi e dove appunto il camper potrà postarsi per questi giochi importanti per voi giovani.